Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come state? Spero tutti bene. Qui c'è un caldo pazzesco, oggi è entrato l'autunno, 21 settembre, ma il caldo è pazzesco. Io abito in provincia di Siracusa, c'è troppo caldo, non vedevo l'ora che arrivasse l'autunno, ma niente, ancora non se ne parla. Va bene, pazienza, fatemi sapere dalle vostre parti com'è il tempo, se l'aria è un po' più fresca rispetto dove mi trovo io. Allora, prima di parlarvi della novità che ci sono nel nuovo catalogo di Faberlic della campagna 14, che è questo, che è appena iniziata, proprio inizia proprio oggi, vi voglio parlare della magnifica opportunità che Faberlic sta dando ai nuovi iscritti. In pratica sta rinnovando per altri 15 giorni l'offerta che c'è stata in campagna precedente, cioè questa, vi faccio vedere qui dietro questo catalogo, è un bonus di 30 euro. In che cosa consiste? Se effetti un ordine di 75 euro, quindi da catalogo, puoi comprare tutto quello che vuoi da questo catalogo, spendendo quindi 75 euro, lo pagherai semplicemente 30 euro, scusate, lo pagherai 30 euro, giusto, più le spese di spedizione, 33 euro. E quindi, secondo me, è un'opportunità magnifica per poter provare i prodotti straordinari che ha Faberlic. Perché, oltre a prodotti di make-up e cosmetici, ci sono anche prodotti per la casa, che adesso vi mostrerò. E sono tutti validissimi prodotti buonissimi, di altissima qualità, tutti certificati. E quindi conviene, secondo me, approfittare di questa magnifica offerta che Faberlic dà per altri 15 giorni. Perché non è sempre così. Per ogni campagna ci sono delle offerte diverse in base a chi si iscrive in quel periodo. Però questa volta, come nella campagna precedente, abbiamo questa opportunità magnifica, che secondo me vale veramente la pena approfittare. Quindi, se volete chiarimenti, scrivetemi nei commenti. E se volete scrivermi sotto il mio link, sarò io stessa ad aiutarvi. Quindi farete parte del mio team. E quindi, qualunque cosa abbiate bisogno, sarò io ad aiutarvi. Vi aspetto, mi raccomando, perché è un mondo fantastico quello di Faberlic. Adesso vi mostro questo catalogo, naturalmente in maniera un po' così approssimativa. Ma se volete vederlo meglio, scrivetemi, che io vi mando tramite Messenger o WhatsApp e vi mando la copia di questo catalogo online, naturalmente. Ok, iniziamo subito. Quindi inizia la copertina con questa immagine. C'è scritto qui sotto, mille baci. E questa campagna, come vi ho detto, inizia oggi, 21 settembre e termina il 4 ottobre. Quindi dura solo 15 giorni. Allora, le offerte sono sempre incredibili. Sono sempre delle offerte vantaggiosi con dei prodotti di altissima qualità. Ecco qui, ci sono tante cose interessanti. C'è questo che mi interessa particolarmente. Questo pitch per i contornocchi, molto interessante questo. E poi tantissime altre offerte. Correttori, sieri per il viso. Maschere fantastiche. Io le sto utilizzando quasi tutte. Man mano che le acquisto, le testo su di me. E sono tutte una meglio dell'altra. Sono fantastiche. E poi c'è una linea completa con vari step da raggiungere. Per il viso. Una linea con, anche qua, con lo sconto del 45%. Questi sono alla vitamina C. Poi la linea che si chiama Vario, sempre per il viso. Per varie tipologie di pelle. La linea che si chiama Weekend. Poi questa altra linea interessantissima. In varie linee all'ossigeno, che è un brevetto esclusivo di Faberlic. In base proprio al vostro tipo di pelle e alla vostra età. Ecco qua. Non so se riuscite a vedere i prezzi. Come sono dei prezzi piccolissimi, con dei prodotti super super validi. Ecco qui. La cura per il viso. Tante altre offerte. Questo è un altro trattamento con vari step per il viso. Antirughe questi sono. Qua tante altre linee interessanti. Dalla linea Expert. Una linea molto, molto buona. Come questa. Questa è tutta la linea Expert. Ci sono trattamenti per il viso, per le sopracciglia. Questa è per la crescita delle sopracciglia. Poi c'è la linea per il corpo. Che comprende l'anticellulite, per le smagliature, scrub per il corpo, il massaggiatore. Tanti altri prodotti validissimi. Poi questa è una linea adatta per la 50 anni in più. Questa 60 anni in più. Sono tutte linee per il viso. Anche questa. La linea Volume è dai 35 anni in su. C'è tutto il set. Con dei prezzi piccolissimi. Tu siete riuscite a vedere. 5 euro, 6 euro, 3 euro e 39. E nella stessa linea Bloom. C'è questa linea Effetto Lifting da 45 anni in su. E da 55 anni in su. Poi la linea Coreana. Questa è una linea fantastica. I coreani ci tengono molto a creare dei prodotti eccezionali per la loro pelle. Eccola qui. Una linea molto morbida. Poi c'è la linea adatta per la pelle grassa. Quindi magari anche per i più giovani. E non solo. Non ho problemi gli acne. Poi la linea Verbana. Molto bella anche questa. E anche sono belli le confezioni. I pecchi che hanno fatto sono bellissimi. Questa è la linea Botanica. Che ha ingredienti al 90% naturali. Con dei prezzi molto molto piccoli. Qui c'è la promozione. Ogni due prodotti. È al prezzo 1,99 euro ciascuno. Quindi è adatto un po' anche a tutte le persone. Perché puoi spendere da una cifra più alta. A quella più economica. Questi sono delle maschere in foglio. Molto belle anche queste. E' molto buona. Questa è la linea per curare le mani. Poi queste altre in offerta. Ci sono tantissime offerte. Queste sono le creme per i piedi, per le mani. Per vari tipologie di creme adatte alle nostre esigenze. Questa è la linea Expert Parma. È una linea della parafarmacia. E anche qua ha dei prezzi vantaggiosi. Considerando la qualità del prodotto. Qui ancora proseguiamo con altri prodotti interessanti. Sembra della linea parafarmacia. Expert Parma. Questa è una linea validissima per chi ha problemi della perdita dei capelli. E questa è una linea ottima. Perché ha questo problema. C'è un trattamento proprio specifico. Poi ci sono i spazzolini da denti. Questi sono particolari perché sono fatti in silicone. Quindi non sono i classici spazzolini che trovate nei cibo e mercati. E hanno un prezzo piccolissimo. 1,79 euro. Continuano qua i dentifrici della linea Expert Parma. Tutte altre nevollutorie. E tantissime altre cose. Neodoranti, altri dentifrici. Tutti con prezzi molto scontati. Questa è la linea Nunchi. Anche questa è molto bella. Tutta super dolosa. Poi la linea La Creme. Eccola qua. Ci sono il bagno doccia, il bagno schiuma, crema per il corpo. Quest'altra linea particolare. Saponi per le mani. Sempre della linea La Creme. Con varie tipologie di gusti. Al cocco, al miele, alle mandorle. Questa invece è una linea tutta super gustosa. Golosa proprio al massimo. Ecco. Proprio bellissime, profumatissime. Vitamania. Anche questa con tante offerte. Ci sono tanti prodotti interessantissimi. Questa è anche una linea molto bella. Anche belli. Queste sono anche un'ottima idea per fare un regalino, un pensierino a qualcuno. Perché farete sicuramente una bella figura. Perché si presentano molto belli. Sono molto carini queste confezioni. Molto belle. Questa invece è sempre bagnodoccia, se non sbaglio. Gel doccia della linea botanica. Qua continuiamo con una linea coreana. No, scusate, non è coreana. Questa è giapponese. Coreana era quella che vi ho fatto vedere prima. Questa è giapponese. Una linea giapponese. Ecco qua. Anche qua ci sono questi prodotti adatti al proprio tipo di capelli. Poi ci sono diverse tinte per i capelli. Ci sono ben tre linee. Sono quelle più professionali, quelle più naturali. Queste anche invece sono... Questo è lo shampoo, balsamo. E tanti altri prodotti. Sono un'infinità perché questo catalogo è grandissimo. Contiene 250 pagine. Anche qualcosa in più. Shampoo per ogni esigenza. L'altra tinta per i capelli della linea botanica. Una linea per i più piccoli. Guardate quanto sono carini. Per i bigli da tre anni in su. Profumi realizzati da profumieri francesi. Sono addirittura molti profumieri che collaborano con Faberlic che producono dei profumi di nicchia. E quindi abbiamo dei profumi eccezionali creati da questi profumieri famosi. Guardate quanti ce ne sono. Uomo, donna, tantissimi profumi. Ecco, dopo tantissimi profumi con sempre tante offerte. Ancora altri profumi, profumi. Uomo, donna, insomma. Vediamo un po'. Questo invece è il profumo. Il rossetto HD che è uscito in campagna scorsa. Fra le altre cose uno di questi è quello che sto indossando in questo momento. Lo trovo bellissimo. Sulle labbra, lascia le labbra morbidissime nonostante sia matte. Bellissimo. Vi faccio vedere in particolare quello che sto utilizzando io. C'è proprio qui. Questo Clim Team in HD. Il codice, se qualcuno possa interessato. È 4024. Non so se si riesce a mettere a fuoco la telecamera. Credo di no. Comunque 4024. Ed è bellissimo. Sì, è molto carino anche il suo pack con questo colore bellissimo. E poi fatto calamitato così. E questo è il colore. Proprio quello che sto indossando in questo momento. È bellissimo. È un colore secondo me adatto proprio per questo periodo autunnale. Bello. E poi è fatto particolare. Guardate com'è carino, com'è fatto. Permette in maniera semplice di proprio passare il vostro rossetto sulle labbra. Da queste intagliature. Molto bello. E si chiude così. Facilissimo. Quindi è difficile anche perdere il tappo. E questi sono tutti i vari colori di questa linea. Belli veramente. Sono infatti descritti con 100% di colore. In un tocco. E hanno un effetto soft matte. Poi un'altra novità che c'è in questa campagna. Questa nuova linea di rossetti. E questi sicuramente ne acquisterò qualcuno per provarli. Poi magari ve ne parlerò. Sono molto belli anche questi colori. Bello anche il pack. E poi quest'altro colore per le labbra. Questi sono rossetti liquidi. Anche questi sono buoni. Questi sono a lunga tenuta. Altri rossetti. Luce da labbra. Mascara. Le varie tipologie di mascara sono tutti buonissime. Nelle palette. Liner. Con lo sconto del 35%. Questa è un'altra novità. E' questo fondodinta idratante. Anche questo. E' uscito in questa campagna. Costa 6,49 euro. Altri fondodinta che già erano usciti in precedenza. Tanti altri prodotti molto interessanti. Un altro rossetto molto bello. E questo. Questi hanno dei pack stupendi. Questi mascara sono bellissimi. Le palette che scrivono alla perfezione. Una di queste è quella che sto utilizzando adesso. Scrive benissimo. Scrive questa. Questi sono i bellissimi smalti. Uno di questi è quello che sto indossando adesso. Fantastici sono colori brillanti molto belli. E tanti tanti altri prodotti. Poi ci sono anche i pasti sostitutivi. Un po' di pentole, padelle. Poi passiamo alla linea per il bucato. Ci sono tantissimi prodotti per il bucato in offerta. Questi sono i balsamo. No, balsamo. Vabbè, buonanotte. Balsamo. Questo è il namorbidente. Questi sono invece per il bucato diversivo universale. Per i bucati bianchi, per i colorati. Sono tutti super concentrati. Made in Germania. Questi, tanti altri prodotti. Uno meglio di un altro. C'è un po' di tutto per la casa. Per la pulizia della casa. E insomma, è anche una linea per i bambini. Un po' di zainetti e tante altre cose. Tante altre cose che trovate per chi si iscrive nel sito. Che giustamente non potevano mettere tutto quello che contiene Fabric solo in un catalogo. Perché sarebbe stato impossibile. Qui già ci sono, ora vi dico esattamente quante pagine. 259, 260 pagine. Siccome Fabric ha più di 8000 prodotti. Quindi molte cose li trovate nel sito. Per chi naturalmente si iscrive. Allora, vi esorto a pensarci. Avete appunto, come vi ho detto prima, solo 15 giorni a partire da oggi. Se volete informazioni chiedetemeli pure. Io sono a vostra disposizione. Grazie per aver visto questo video fino alla fine. Ci vediamo presto per un altro video. Ciao.